che gioiello è questo giochetto di percentualità ciao cos'è questo 0,01 Mr. X 2,1 cos'è dici intanto se c'hai un Mr. X in mente e se era piazzato in Inghilterra o dove era non l'ho visto bene oppure se Mr. X è Mr. X cioè può essere chiunque può essere chiunque ma la località Luca non penso sia casuale è casuale fa un po' di ritmo Lucone dai Grinta ricordi che siamo in video ne fai un po' di tv io sono venuto per controllare ma perché Zuliani se n'è andato proprio adesso è arrabbiato con te è arrabbiato per le percentuali 0,01 è impazzito fammi fare no ora torno fammi fare un paio di domande sulle percentuali quindi Mr. X non ce n'ha in mente uno Luca hai detto blef però devi rispondermi se no la trasmissione non va avanti siccome credo che conosca il canale sono 24 ore che mi fanno la stessa domanda eh ma tu però dove sei stato nelle ultime 24 ore dimmi quindi è qua che devi parlare cosa hai fatto nell'ultimo giorno e mezzo spiegaci spiegaci raggiornaci sto Mr. X è una persona o è un'entità al momento astratta è astratta è astratta e l'altra domanda è perché invece Vincenzo Italiano ha il doppio di altri allenatori quotati circa allo stesso modo come Palladino e compagnia anzi pure tre volte perché vale il doppio mi piace Italiano Luca è un allenatore è un allenatore di tutti di tutti no di quelli che tu diciamo stavi ipotizzando come se fossero tutti parte dello stesso plotone no immagino Palladino Girardino Momblanino eccetera in realtà Italiano è qualcosa di più oggi che non vuol dire sia più bravo però Italiano sulla carta è lecito possa ambire a una panchina importante se Palladino sarà bravo a prendersela bravo lui bravo Riso che lo assiste sicuramente è perché ci sono dei report ottimi per come gestisce il gruppo gli allenamenti perché c'è Gagliani che li ha fatto da sponsor da mentore eccetera ma oggi l'italiano ha uno standing superiore a Girardino a Palladino a Baroni a chi volete voi no di quel di quel gruppo diciamo lì siamo d'accordo poi attenzione ripeto non vuol dire italiano più questo ci sta che uno possa dire a me piace più Girardino mi ispira più quello benissimo ma italiano se unilateralmente e così è lascia Firenze perché ovviamente ambisce una piazza importante una piazza superiore a Firenze vuol dire andare in una possibile big in una anzi in una consolidata big poi magari arrivata settima come Napoli ottava quinta vedremo però quella è l'ambizione di un allenatore ambizioso che è seguito anche da un procuratore che è capace ad essere ad assistere quelli ambiziosi è anche vero è anche vero che leggevo italiano potrebbe anche essere considerato come un dopo motta Bologna per fare la Champions che ti dico non è un upgrade rispetto alla Fiorentina però vai a fare la Champions lui finora in Europa tutto sommato bene si è misurato in Conference che è un'Europa come dire è come dire è un pezzo un pezzettino d'Europa calcisticamente veramente è un po' la costola dell'Europa mi piacciono molto questi mi piacciono molto questi format argomentati ragionevoli che metti su Massimo mi piace venire ospiter allora grazie grazie mille Luca Momblano se avrei voglia di essere ospiter dammi due concetti che ha espresso forti che ha spesso padovano perché me lo sono perso e ora te lo dico anche perché voglio sapere cosa pensi di uno di questi due temi prima però rispondi alle piastrine e ai chiellini che ti chiedono ma se dovessimo svegliarci una mattina con accordo Motta United cosa accadrebbe? cosa penseresti tu quel giorno? penseresti allora la Juve va su italiano penserei ah si è? ma ripeto questa domanda me la fai il 16 o 17 cos'è 17 di aprile magari se tu la stessa identica domanda tanto non è che tra una settimana saprete ufficialmente se ti aggo moto l'allenato a viventi ma ripeto tra una settimana magari ti dico qualcosa ovviamente soprassiedo su Mr. X per ovvi motivo ma quali sono questi motivi Nicol tu li hai capiti? perché astratto perché astratto eh ma astratto no non ci sarebbe la percentuale beh però è come dire è residuale no è come dire residuale sì che ci sarà ci sarà sempre Vincenzo Italiano che è al 2 virgola qualcosina per cento del senatore della Juventus Vincenzo Italiano più di ventino di tutti voi messi insieme ah quello è sicuro quello è sicuro cioè di me no ma degli altri no perché no ma perché gliene stanno dicendo di ogni a noi non piacciono quelli che attaccano 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 e perdono 1 a 0 questo questo vi capisco è un fratello bianconero è un fratello bianconero di Ribera proprio sono stato presentato in me Gaspa ragazzi Gaspa ha un super contratto a Bergamo ha rinnovato 27 ha libertà di scelta su quasi ogni cosa è il padrone dell'Atalanta dell'area sport dell'Atalanta se lo vuoi ragazzi l'Atalanta faceva sceneggiate per liberarci Spinazzola con un anno d'anticipo perché gli avevamo fatto un prestito biennale vuol dire che se vuoi Gasperini lo devi volere fortementissimo e non per atterrare come piano F come è successo quell'estate la Gonsarri e se tu vuoi che tra l'altro pagammo anche per liberarlo ma se vuoi tu fortemente una figura del genere devi andare a fare una forzatura forte e ti costa allora io dico se tu hai un pensiero su Gasperini forse dovevi farlo prima prima che facesse il nuovo contratto prima che eccetera mi sembra andare lungo poi su quelle situazioni lì vuol dire sapere che devi pagare un prezzo quindi Gasperini lo vedo Ah Gasperini non è Mr. X Di Gregorio si parla di Di Gregorio portiere ti risulta Luca fai parola a Nicola Meret e Di Gregorio entrambi osservati con attenzione questo ve l'ho già detto carne secchi troppo caro scusa? carne secchi troppo caro carne secchi è caro poi forse non è il momento nel senso che ci starebbe anche rimanesse un anno in più all'Atalanta la Juventus ovviamente carne secchi lo segue piace ma non è giocatore da spostare quest'estate per noi perché costa costa e tu vai a fare una stagione di una complessità e di un livello tale per cui un portiere come carne secchi va a fare il primo e non allora primo non spendo 30 milioni per prendere un vice ok? oggi quello lo facevamo 5 anni fa spendo 30 milioni perché lo penso titolare da subito c'è una stagione molto complessa l'ideale sarebbe andare tra un anno segnalo che di Gregorio Meret ci sono profili di questo genere e sono situazioni su cui effettivamente la Juve viene individuata come presente curiosamente e qua vi sorprenderò un pochino mi è stato detto guarda che la Juventus su questi portieri è presente perché la Juventus pensa di sostituire Perin ah questo dico Cesney è un capitolo a sé stante perché non è chiaro se lui è disponibile o no a fare un nuovo contratto tra l'altro facesse un nuovo contratto Cesney blinderebbe quasi la sua posizione alla Juventus mossa che però lui al momento esita a fare resiste su questo contratto vediamo però attenzione perché mi dicono Perin potrebbe salutare la Juventus ma era quello che ti dicevo non è possibile che passi un processo di Perin quando ci davi la notizia ai Meret io dicevo non è possibile che sia un Meret Perin cioè tutti e due bravi quello che vogliamo ma ragazzi non possiamo andare in downgrade ragazzi Meret Meret può uscire a parametro zero ve lo dico sì ma devi essere pure bravo è bravo perché Napoli in Napoli ha vinto uno scudetto anche in Napoli beh Giuntoli lo conosce poi non lo so avrà avrà un'idea lui di che portiere Meret ma io chiedo a te Luca a te piace? perché non lo so eh sicuramente non è un portiere che ruba l'occhio devo dire la verità questo no è un portiere che se dovessi consegnargli a maglia numero uno della Juventus una stagione come la prossima sarei un po' così però non è neanche più quel portiere che su certi campi non c'è stato non è stato capace capace ad esserci da anni fa certi contesti poi non è non è un giocatore secondo me non è un portiere primo livello cioè paradossalmente tra gli addetti ai lavori anche per quello che viene percepito per esempio nel racconto per esempio dei loro allenatori dei loro staff tecnici negli ambienti di calcio Di Gregorio vanta una reputazione incredibile persino superiore a quello allora è un portiere sicuramente più più appariscente il modo di stare importa più appariscente più reattivo un portiere più esplosivo però per esempio Di Gregorio si dice un fenomeno c'è anche in allenamento il suo allenatore dice Di Gregorio è un fenomeno dice è uno dei due giocatori che non cambierà in mano della mia squadra dice palladino cioè è un fenomeno ok Di Meret questo non si ascolta è un è la sensazione che sia un portiere un po' piatto Meret però attenzione può essere una grande occasione di mercato perché perché il Napoli ha in mano l'opzione per andare a prolungare fino al 25 ma nel contratto originario di Meret c'è che quell'opzione il Napoli la può esercitare e non lui perché noi davamo le opzioni ai nostri giocatori invece il Napoli se le tiene per sé vabbè comunque vabbè impareremo anche a far questo con Giuntolone in Napoli se diciamo così provvede allo scatto deve anche adeguarli l'ingaggio per l'ultimo anno cioè c'è un accordo questi anni e qua e a X per l'eventuale ultimo anno su del sergio c'è X più il 20% e parrebbe che da Napoli e Napoli non siano molto pensino di cambiare portiere poi questo ripeto sono cose più che su cosa pensano da Napoli lo leggo dai media locali e lo ascolto dai colleghi che seguono a Napoli sulla Juve di Comeretta è un nome che che circola anche di Gregorio però di Gregorio costa di Gregorio costa Luca mi chiedevi i concetti fondamentali di mi chiedevi i concetti fondamentali di di Padovano più dominante conte perfetto la squadra è già forte la squadra è già pronta lui dice a il Diz la 10 io so che tu non sei proprio dello stesso parere ma cosa ha detto che darebbe la 10 domani ma avete pronto svegli ha detto a Barcellona con il 17 ha detto ma perché da noi c'è questa ansia che debba avere 25 anni o quanto sarà per avere la 10 forza dategliela sta 10 intanto intanto a Napoli ragazzi ma so quasi quante cose del Napoli che della Juve su uguale infatti mi preoccupa anche vedi che sono già anche in divisa ufficiale io 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 mi metto nel bagagliaio di manna e mi trovate in Napoli ragazzi e ve lo dico così sto passando detto ciao ha rinnovato l'abbonamento fra Brie anche l'azienda lista Nato poi vedo Danny Grass 89 Takayasu grande amico Smila 17 mesi per lui o lei Smila in realtà come romanzo quindi potrebbe essere una lei Axe Bears 22 mesi Pueblo Juve gli amici di Pueblone 34 mesi splendido svegliarsi da questo lato dell'Atlantico con Juventus grazie per tutto ciò che fate noi siamo un po' la loro sveglia e questo ci fa piacere cioè immaginatevi che si svegliano con la voce di Zampini ragazzi non ce l'avete voi una suoneria con la voce di Zampini fatelo io dico una cosa scusami Luca ora devi rispondere su il Diz siccome hai citato gli abbonati leggo anche due tre messaggi vuol dire che Marascheglia ha chiesto la 10 a Napoli è venuto fuori un pandemonio in sede ah cavolo però su quei posti quelle piazze un po' su questo ci perdoneranno i fratelli napoletani un po' più provinciali anche a Roma la 10 di Totti non la danno a Di Bala per ora con quei posti dove rimane il mito e la leggenda mentre da noi alla Juve è bellissima ma devi anche andare avanti se no comunque è bello per quello credo sognare di prendersi la 10 della Juve la speranza di poterla prendere Luca rispondi sul Diz poi ti leggo qualche domanda di chi si è appena abbonato sicuramente tu hai semplificato un po' immagino che Michele abbia fatto un'analisi dicendo qualcosa in più però ho capito bene anche un po' distinto anche un po' coraggio a pelle gliela darei io invece ti dico no e il motivo per cui non gliela darei adesso cioè tra un mese e mezzo gli do la 10 il mito contestualmente al nuovo contratto eccetera non lo farei perché allora se me la impone l'intorazione di Diz nel contratto già ma io parto dal presupposto che non sia così che sia un ragionamento fatto anche da Juventus nella nel discorso che unisce quello che la Juve vuole provare a ricominciare a essere ai discorsi di marketing all'Iason con Adidas tutta una serie di cose io il mio no è solo in seconda battuta per il discorso che immagino convinca pochi di dire ma glielo diamo cosa c'è a 500 minuti con la maglia della Juventus e gli diamo la maglia della 10 cioè bisogna anche davvero bramarla conquistarla fare fare cose e poi avere quel premio per poi come dire consolidarsi e fare magari ancora un passo e sublimare quello che sei capace a fare ma questa è l'osservazione bis su cui possiamo aprire secondo me anche una puntata facciamo una live dalle 18 alle 19 su questo tema e va bene il vero motivo per cui non darei la maglia e il Diz tra un mese e mezzo è che visto che la Juventus cambierà l'allenatore non metterei questa cosa sulle spalle di un nuovo allenatore cioè se io do la 10 e il Diz di iniziativa societaria ok cioè proprio di io Juventus ho deciso questo ragazzo sta sarà da Juve ok e sarà la Juve sarà la Juve nel mondo entro tot tempo sto caricando sulle spalle dell'allenatore una scelta che lui si ritrova fatta anche con dei problemi che non inizierei a metterli pronti via a un nuovo allenatore anche di carattere anche di carattere più che gestionale immagino che il ragazzo possa avere un po' di sani zucca ma intanto se hai la 10 hai la 10 e anche a livello mediatico quindi dare oggi a 10 Diz con questo tipo di iniziativa allora la Juve acquista Dani Olmo gli da la 10 c'è nessun problema poi l'allenatore farà quello che ritiene ok Dani Olmo ha tot anni di professionismo è titolare credo che abbia anche la 10 della Spagna non c'è nulla di male sarà la 10 della Juve poi può anche far panchina cioè non voglio dire sarà l'allenatore a decidere gli undici che partono di volta in volta invece in questo caso vado a creare secondo me una veramente in maniera non richiesta un possibile problema pronti via all'allenatore che dice mi trovo questo con la 10 questo ha delle aspettative di un certo tipo lui il suo entourage la società mi sta dicendo guarda che lo devi far giocare senza dirmelo e io lo eviterei quest'anno che problema c'è tra 12 mesi siamo qua in diretta io mi alzo prendo ma dov'è? che succede? non torna? ah eccolo e dico caro Kenanildis guarda l'ho tenuta al fresco già bella ma che è sta cosa? perché io do la scella? la 10 la 10 fresca magnifica stupenda hai capito? tieni te la sei meritata adesso vola insieme a noi che spettacolo ragazzi che spettacolo che vai vai luca cosa ne pensi del fatto che adesso venga gestito dalla famiglia? ti ho convinta di col sì cosa avrei votato? allora io gliela vorrei dare la 10 però capisco che non è un ragionamento cioè il mio è spinta da tifosa cioè ragionandoci concordo però non avevo ragionato in ottica al nuovo allenatore questo ci sta secondo me più sulle pressioni che può avere il giocatore molti ne parlano però in effetti è vero c'è anche quest'altro punto di vista Lucone non ti preoccupare che i messaggi che non so se te l'ho mai detto ma li metto in evidenza li metto in evidenza io luca poi fai come vuoi perché lo sai che non mi arrabbio su queste cose però diciamo ecco no perché già ecco allora luca tra i tanti abbonati tu ne hai citati un po' poi dopo c'è pre-rob sodius sodijus così o sodiju allora aziendalista nato ti dice ma vuoi il post finale di conference così leggo gli abbonati con italiano che praticamente in colpa un suo giocatore reo di aver sbagliato sul gol è piaciuto? va beh non mi frega niente aziendalista nato io ci ho trovato poi a prescindere dall'allenatore Mauro Cpt il top acquistativo in che ruolo ha fatto? il tiro di mistro regista mezzala attaccante altro rispondete voi due un cervello a centrocampo e un creativo davanti queste sono le indicazioni del nuovo mister Nicole? eh concordo per me a centrocampo uno che sappia far girare la palla è fondamentale Claudio ha citato Giorginio Luca ti piacerebbe o dici basta come? Claudio prima Giuliani a parte che è sparito Claudio Giuliani ma ha citato ma sono arrivato io tra l'altro non so ha citato Giorginio non so cosa bevi e se n'è andato adesso no aspetta adesso gli scrivo scrivili scrivili però ragazzi non mi deve rispondere alla domanda sui diz lo chiede anche la chat il fatto che adesso venga gestito dalla famiglia tra l'altro come Hausen che è gestito dal papà cambia le cose ragazzi Giuliani sulla famiglia non mi fa non lo so allora guarda io ti dico questo secondo me il Diz firmerà nuovo contratto con la Juventus a condizioni molto molto buone per la Juventus secondo me perché comunque poteva diventare delicato e credo che questa sia un'iniziativa più sua di chi l'ha assistito che invece avrebbe preferito forzare un po' perché è giocatore ragazzi magari tra due mesi scopriamo che fa quattro gol all'europeo ed è sulla bocca di tutti cioè attenzione è un attimo la società che lo gestiva preferiva una gestione di più alto profilo poteva essere un trasferimento forte poteva essere pretendere di più eccetera quindi da un lato ti dovrei dire oh bene bene perché invece lui cambia procuratore li molla la Juve poi però so anche che dopo cioè quando inizia la fase della gestione familiare se così sarà perché invece magari scopriremo che va da un grande procuratore e ciao da Mendes che ne so ma la gestione familiare in prospettiva non mi fa non mi fa mai impazzire perché innanzitutto è molto umorale sempre la gestione familiare e non è fatta da professionisti che ne hanno già viste già vissute che sanno gestire anche gli umori appunto dei calciatori hanno uomini a loro disposizione professionisti che si dedicano a loro a seconda del momento in un modo in un altro perché sono dei lavori di squadra a tutti gli effetti quando sei in famiglia è tutto molto umorale eccetera tant'è che Hausen da qualche mese è gestito diciamo così a livello si autogestisce si autogestisce e questo apre non solo a un sacco di voci ma anche a un atteggiamento cui magari tu lo fai anche in maniera ingenua non vuoi nulla di male ma se un grande procuratore parla con Dortmund fidatevi che è difficile che se esce la cosa perché è studiato che esca oppure il giornalista ha avuto veramente le cose cioè praticamente arrivi arriva che poi il flusso di notizie che ti riguarda è vivo costantemente aggiornato perché ti muovi in maniera che tu pensi che ti muovi in maniera scaltra ma intanto invece intorno tutti sanno cosa stai facendo proprio perché se il papà riausa e fa una cosa fidatevi che gli addetti ai lavori che lo sanno se ne strafregano di dire no vabbè ma questa non me la tengo perché è un collega e lo lascio lavorare no non è un collega per cui dico guarda che papà riausa ha parlato con quello guarda che sento quello guarda che vorrebbe giocare di più vorrebbe giocare di meno e tutto esce quindi attenzione non amo questo tipo di prospettiva per il Diz anche se in questo momento fa il nostro gioco Luca è vera la storia di Jonathan David Luca i messaggi non so se te l'ho detto ma li metto in evidenza io per ora ancora con la voce piuttosto tranquilla te lo dico io ho sei minuti scarsi le vedi gli occhi io poi ho una domanda ragazzi mi è arrivata una telefonata da 080 che prefisso è 080 081 in Napoli 080 non so Luca non è vera la storia e ora arrivo Ricola è vera la storia di Jonathan David dal Napoli Luca Bari mi dicono Bari eh Luca non so già fatta ho letto 50 milioni aspetta i procuratori i procuratori Jonathan David sono stati a Milano dieci giorni lì hanno parlato con tutte le società italiane tra il stato all'Inter al Milano ma poi i colleghi che si occupano all'Inter hanno fatto le verifiche ma hanno detto guarda che in realtà la questione che hanno aperto un ufficio affittato una room per dieci giorni stanno incontrando eh quindi il giocatore vuole trasferirsi vuole la Serie A sa di avere anche avuto alcuni ammiratori tra cui sicuramente l'aveva seguito a lungo anche giunto di questo lo sappiamo e quindi diciamo così batte un po' i tacchi per arrivare in Serie A se poi sarà Napoli ben venga ma io pur occupandomi ormai di Napoli quotidianamente non so se l'operazione col Napoli sia concluso o meno Luca questa era di prima questa era di prima e poi Nicole ti sembra realistico ti piacerebbe Bremer Cassandro via entrano Calafiori e Scalfini e Scalvini Scalvini è duro da prendere ragazzi Scalvini secondo me nei piani dell'Atalanta non è l'anno ancora della cessione sai che loro sono loro sono i piani quinquennati di Stalin scadenza nel senso è proprio fai la tua domanda da questo punto di vista ne ho due una rapidissima ma la gestione di Gialo è vero che potrebbe andare in prestito l'anno prossimo sì l'abbiamo letta oggi in chiave Genoa perché è uscita questa cosa di Gudmundson il Genoa ci deve i soldi di De Winter che è scattato del riscatto esercitato secondo me ci deve anche ancora la percentuale di Dragosin perché poi si vanno a fare le compensazioni a fine anno chi ti deve il dare avere eccetera quindi io entro con il Genoa c'è un ragionamento d'ampio spettro che può riguardare Gudmundson per carità un giocatore che è un creativo quindi rientra anche in un identikit di giocatore che la Juve potrebbe piacere effettivamente è entrato anche il nome di Tiago Jalò leggevo io non so se Tiago Jalò o Genoa se è una richiesta diretta ma sì già da due tre settimane qua su questo canale diciamo guardate che ragazzi risulta che Tiago Jalò può andare e forse deve andare a fare un anno è giovane 13 mesi che non giocano a partita ufficiale ragazzi a tenerlo è un rischio cioè paradossalmente rischi di perdere ulteriormente il valore tecnico del giocatore che su cui Giuntoli diciamo ha investito perché ci crede cioè il giocatore dice è bravo pensa è bravo anzi è una super occasione poi lo vediamo secondo me può andare in prestito un anno effettivamente ma ha denuso qualcuno oppure oppure semplicemente non è ancora pronto e aspetta ma sicuramente non fa impazzire questo staff tecnico però uno potrebbe anche dire se ci sarà un altro staff tecnico se lo tengano per l'estate e poi si valuterà ma infatti io vi dico questo dire oggi il primo luglio Tiago Jalò sarà al Genoa al Verona al Monza è presto perché poi le cose possono cambiare abbastanza in fretta da questo punto di vista soprattutto ripeto qualora ci sia il cambio dello staff tecnico perché a quel punto la Juve non avrebbe fretta di fare l'operazione del prestito anche perché diciamo il prestito non condiziona un eventuale arrivo condiziona se tu lo dai con un prestito per la cessione cioè col diritto di riscatto o addirittura per una cessione a titolo definitivo io credo che la Juventus voglia prestare sinceramente prestare far giocare vedere e maturare Tiago Jalò nel contesto del campionato italiano ricordiamo ricordiamo che quando la Juve fece l'operazione e ve l'abbiamo raccontato la Juve nel programma Juventus è molto chiaro noi prendiamo Jalò anticipiamo l'Inter giocatore forte lo mandiamo a giocare sta rientrando in fortuna lo mandiamo quattro mesi in Serie A al momento di firmare il giocatore dice se non mi tenete con voi non firmo ma è una follia dice no no io voglio giocarmi subito rientro alla Juve devo dire che Giuntoli ha un po' abbozzato non non proprio felicemente anche accettato però il piano Giuntoli va in là di sei mesi e dice sai cosa c'è di bello non hai voluto andare in prestito adesso vai dopo perché perché hai bisogno di giocare e hai bisogno di fare campionato italiano hai bisogno di farlo chiaro ripolda e poi ci vado via cosa manca al salto della percentuale di motta verso il 100 cioè il fatto che ci siano altre concorrenti tipo lo United può pesare in questo momento oppure anche il fatto che la Juve non sia ancora matematicamente in Champions cioè quali sono i fattori secondo me il fattore è Bologna ah ok non è cioè io diciamo nell'algoritmo nelle valutazioni di calcolo dell'algoritmo quella parte che incide di più in quel 10 qualcosa che manca è il fattore Bologna e quando dico fattore Bologna è il Bologna non ha ottenuto un risultato definitivo e quindi anche lui sicuramente ha grande rispetto per il contesto in cui sta lavorando in questo momento grande rispetto per i dirigenti con cui lavora soprattutto Sartori e grande rispetto al punto che paradossalmente un Bologna in Champions può avere quel tipo di anche di variabile non lo so per cui uno dice ok adesso col Bologna mi siedo tre volte ha rinviato l'appuntamento con la società ha avuto un lungo faccia a faccia con Joyce Aputo il presidente che ha piantato le tende a Bologna da quando sono arrivati lì nell'ultimo mese prima non lo vedevano mai e poi lui scioglierà le riserve ma nei confronti di tutti con massima professionalità e sincerità non una volta che la Juve avrà il verdetto finale ma una volta che il Bologna avrà il verdetto finale Casemiro? Comunque Motta è sinceramente un buon estimatore di Sule lo dico perché mi è arrivata dall'orecchio questa cosa circolava perché lui l'aveva lui l'ha detto alla vigilia per ieri forse non le sembrava hai sempre il dubbio quando gli allenatori fanno queste uscite se è un maniavantismo per il giorno dopo una carezza una scaramanzia mi dico no no sinceramente lo ritiene bravo poi questo Casemiro Luisa Alberto nel caso vedremo Casemiro non è non è roba per la rabbia e Luisa Alberto è anche io Luisa Alberto hai detto Inter e va via c'è la no no non ho detto questo Sampini non ho detto questo non ho detto questo devo andare ragazzi ciao ma Giuliani non mi ha risposto ma McKennie più out Luca solo questo eh McKennie lo vedi più out visto che si è messo in una posizione scomoda lui è scomoda per noi perché sono molto lontani lui ha fatto hanno fatto una richiesta hanno rifiutato l'offerta ha fatto una richiesta importante da giocatore importante importante nel nostro contesto giocatore titolare ok ciao Kim è possibile Kim se ne è andato Kim è possibile Nicole che notizie hai su Kim no io nulla però non lo so mi ha stupito sentire il nome di Kim ha accostato la Juve non lo so se sia partibile sinceramente poi sta giocando no fino a qualche tempo fa giocava ed Elick era in panchina poi non lo so allora McKennie vuole l'Inter per giocare col cognato Giuliani più che altro saluta ma cos'è accaduto a Giuliani chissà ma infatti è andato via vabbè comunque abbiamo già fatto più di un'ora e mezza piuttosto intensa è piaciuta ricordi visa così la puntata ospiti guarda che ritmo c'è il ritmo fortissimo mi sembra forse Luca Luca non è entrato proprio sembrava non esattamente in palla quando è entrato poi man mano stava decollando allora dimmi e ora mi dici i titoli su YouTube di Padovano e il titolo su YouTube della parte di Luca vai cioè le due tre frasi non voglio il titolo esatto le due tre frasi poi io sconvolto contro cioè non so il titolo lo centrarai sul fatto che la squadra della Juve è forte è già forte Juve è già forte più coraggio ci vuole più coraggio esatto Luca non lo so perché le percentuali le ha date ieri però la fine la vera notizia secondo me è forse motta Bologna il fatto che la variabile è più Bologna che magari lo United ma io non ho capito cioè in che caso Bologna cioè in che caso ma e non so se potrebbe avere un ripensamento verso lo stare lì per giocarsi la Champions League ma a me sempre sembra strano cioè secondo me deve prendere l'occasione quest'anno ma poi gli è venuto ora questo dubbio non ho capito non sono due mesi che parliamo grande Fabio Liberati visto a Pescara ragazzi un grande libro sulla costa dei Trabocchi molto bello di fotografie serata con Nicole devi svegliarti Fabio e andare a trovarla non è che venga lei a Vasto a Pescara dove volete voi quindi ragazzi veglia un po' e via allora la Juve ha già una base dare la 10 del Diz scudetto cartonato non male non male e anche se lo scudetto dell'Inter piuttosto i giocatori lo sanno dice scudetto dell'Inter ma va i giocatori lo sanno una cosa così mi piace anche quello è vero Padovano se lo ficco nel titolo e invece Monblano io direi intanto ha saputo che a Motta piace su lei poi c'è la cosa del Bologna che hai detto non darebbe la 10 del Diz possiamo anche fare due titoli in cui ecco perché non la darei e poi e poi non lo so non lo so allora ragazzi allora allora no intendeva che ad oggi per arrivare a 100 ah italiano forse no? cioè che se non arriva a Motta lui ha detto che quindi non arrivasse Motta eh tutti pensano Conte no? se non arriva a Motta è Conte invece c'è scritto con italiano ci può stare che ci può stare allora allora vediamo un po' dai ah anche questa anche questa il prossimo allenatore della Juve ha chiesto un cervello e un fantasista in mezzo al campo quindi sappiamo chi è quindi sappiamo chi è esatto va bene si riesce a avere tanti titoli dai tanti titoli cara Nicole grazie di tutto stasera so che c'è un bar di Mr. Gatta carico a pallettoni domani alle 2 c'è un Luca Monblano carico a pallettoni la sera è l'uridaio insomma ragazzi siamo sei mai stata all'uridaio Nicole? no sono stata in tutte le trasmissioni si da Mr. Gatta il martedì anche quando era arrivato Blaovic mi ricordo che mi avevano invitata ma no all'uridaio no mai di solito sono 18 uomini barbuti che forse forse è un programma leggermente arretrato diciamo da certi punti di vista però però ci siamo stati virtualmente collegati da Parma eh vabbè ho capito quello perché c'ero io barbuto se no allora dalla presentazione di Parma smentisco dice David Zaccheria che è un barbuto che va al non è un caso su quale frase dovevo aggredire Monblano che è l'allenatore dalle percentuali che deve fare lui dice 90% motta che gli devo chiedere ha detto se no vanno su italiano che altro gli posso chiedere forse si chiedevano ma il nuovo allenatore in che senso cioè e vabbè è morto però non te lo dirà mai cioè ma no per lui è morto eh sì è morto infatti chi è finito nella sigla noi chi oh non lo so non lo so non lo so cara Paola la sigla se permetti non guardo io lo ridaio e non ho idea di cosa facciano nella sigla non voglio saperlo e tutto il resto boh non lo so per ora no ragazzi fatemi campare ce n'ho ancora un po' previste prima di maggio-giugno e poi veramente fatemi campare vi chiedo solo ed esclusivamente questa però poi poi rinasciamo ma ce ne sono ancora un bel po' eh a maggio e così via caro Nicola allora intanto grazie grazie a Giacomo Marinelli Andrioli direttore di Umbria TV io ricordo agli Umbri che domani sarò a Gubbio con lui proprio alle 18.30 alla biblioteca Sperelliana domani a Gubbio e e poi sabato sarò invece a Belluno con lo Juventus Club Belluno trovate tutte le indicazioni o sui miei social nelle storie Instagram oppure oppure lo troverete nel pagine dello Juventus Club Belluno anche su Facebook qualunque cosa se siete a quelle parti e ringraziamo Michele Padovano ragazzi ospite incredibile mezz'ora incredibile di concetti di qualità umane professionali non lo so spettacolare poi è entrato Luca ci ha dato tante notizie c'era Claudio Zuliani che non ci ha salutato ma se n'è andato grazie grazie mille a Stefano che mostra ancora l'evento di domani non gli ho mandato quello di sabato a Belluno ma ripeto sugli account lo Juventus Club Belluno trovate tutto e anche su Facebook e ovunque sarà alle 17 con lo Juventus Club Belluno ciao a tutti ragazzi stasera stasera il bar di Mr. Gatta ripeto ancora domani alle 2 Luca Momblano state sempre con noi ciao a tutti ciao Nicola ciao ciao a tutti ciao a tutti grazie forza Juve ciao ragazzi ciao Stefano grazie ciao ciao